Sono Francesca Delmasso, presidente del GAL Montagne Biellesi, che si onora di ospitare nella città di Biella la prima borsa internazionale del turismo accessibile, che segna un cambio di passo nel mondo del turismo e del turismo accessibile, una prospettiva radicalmente diversa ed entusiasmante perché riteniamo che questo mondo non debba essere visto solo come una battaglia di civiltà, ma può essere anche una sfida per i nostri territori, può essere anche una nicchia di business, può essere attività produttiva e quindi un cambio deciso di prospettiva decisamente entusiasmante per il bielese che saprà cogliere questa sfida.